ciao luca ciao tino io non posso essere obiettivo a parlare di voi sono di parte diciamo la verità sono tantissimi anni che ci conosciamo siamo innanzitutto amici sono ormai 13 anni che lavoriamo insieme voi siete riusciti a portare sul palco un mix di arte circense di gianglerie di magia di slapstick di commedia dell'arte portandola ai massimi livelli quindi in tutte le parti del mondo oltretutto come dimenticare per esempio quella volta che siamo arrivati a bucarest hanno trovato un proiettile a salve nel bagaglio di tino come dimenticare non si può dimenticare come dimenticare quella volta che in sud america tino ha dimenticato lo zaino sul taxi mentre andavamo in aeroporto come dimenticare non è sempre tino come dimenticare luca quella volta che hai prenotato a panama l'albergo direttamente dall'italia pagandolo ben 12 dollari a notte si si poteva immaginare che fosse lilton no come dimenticarlo sì sì va bene siamo stati veramente in tantissimi posti siamo stati tante volte in in grecia siamo stati in romania in in ucraina a fare spettacolo davanti a 50 mila persone siamo stati in spagna portogallo in sud america colombia panama in veramente in tantissimi posti al più grande cavale del mondo a parigi ho veramente girato il mondo con voi e ne sono fiero sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per i vostri spettacoli e spero che di continuare ancora per tanti anni la colore la collaborazione con voi e vi auguro 30 anni 40 altri 50 anni di vita artistica insieme quindi complimenti veramente vi voglio bene ciao